Hanno fatto entrambi scena muta di fronte al GIP per Giorgio Ponticelli. Antonio e Andrea Moretti alla guida, anche se non formalmente, di un gruppo di imprese che vanno dall'abbigliamento al vino, questa mattina erano attesi di fronte al giudice delle indagini preliminari per l'interrogatorio di garanzia. Entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Padre e figlio sono agli arresti domiciliari dallo scorso venerdì, dopo il blitz della Guardia di Finanza di Arezzo. L'arresto era scattato anche per Marcello Innocenti, ragioniere ritenuto la mente dell'organizzazione, e Paolo Farsetti, responsabile della linea di abbigliamento. Associazione a delinquere, finalizzata la commissione di reati tributari, bancari, fallimentari e riciclaggio sono le imputazioni per loro. Il GIP aveva inoltre disposto la misura interdittiva dall'attività imprenditoriale per altre 9 persone. La magistratura aveva anche disposto il sequestro di 179 immobili, 500 ettari di terreni, 14 società e marchi per un valore di oltre 25 milioni di euro. Padre e figlio non hanno risposto dunque alle domande del giudice, una scelta che consentirà ai loro legali di studiare a fondo tutte le carte dell'inchiesta per delineare così la strategia difensiva. I legali difensori De Moretti inoltre il prossimo lunedì presenteranno istanza di resame contro la misura degli arresti domiciliari e contro il sequestro di società e proprietà immobiliari. Sono infine attesi per domani e venerdì sempre di fronte al GIP anche Marcello Innocenti e Paolo Farsetti. Anche loro potrebbero fare scena muta. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.